C'è tregua nella galassia, per le forze imperiali e l'alleanza ribelle. La notte di Capodanno è un'occasione in più per deporre le armi. Su ordine dell'imperatore, la GRU Imperial Frigate si trasformerà per una notte in una gigantesca discoteca. Cinque piste e quattro bar, con la mega pista commerciale e quella etnica, la Revival, la Reggae e la Rock, l'area privé e il Mille Comfort, in un'autentica nave spaziale che vi catapulterà direttamente nel 2010. Benvenuti nel Capodanno evento di Studio 54 Network. Benvenuti nella GRU Imperial Frigate, info 39 30 54 54 54 o studio54network.it E voi, chiamate mai stati su una vera astronave?